Associazione Amici della Vita Sulcis. Associazione Qui e Ora Amici della Vita. Patrocinio del Comune di Iglesias. Incontro dibattito. Marijuana libera. Sì? No? Oppure? Riflettiamo insieme. Mercoledì 5 novembre ore 17. Archivio storico. Via delle carceri, Iglesias. Introduce per Amici della Vita Dottor Giorgio Madeddu. Intervengono. Gianluigi Gessa, neuroscienziato. Salvatore Morittu, francescano. Giorgio Pisano, giornalista. Testimonianze e dibattito. A che serve, avere le mani pulite, se si tengono in tasca? Don Milani.